Oggi è stato un giorno bellissimo perché ieri la mia Roma ha vinto il derby dopo tanto tempo, 1-0 con gol di Mancini, però dal punto di vista dei social è stata una giornata da dimenticare, perché sono stato letteralmente massacrato. Perché? Semplicemente il gesto di Mancini che è andato sotto la curva sud ha preso una bandiera di un tifoso, una bandiera della Lazio con un sorsio, un topo in mezzo e la sbandierata come se fosse un vessillo, contento di aver vinto il derby e soprattutto di aver segnato, essere l'uomo derby. Lui si è scusato a fine partita e già fa capire che è stata un'azione da non fare perché è un professionista, è il vicecapitano della Roma e quindi era qualcosa di negativo nei confronti del pubblico. Perché già al mattino c'erano stati degli scontri e magari questa sua azione, questo suo gesto poteva portare qualcos'altro di non positivo, no? Anche se magari tra tifoserie ci può essere lo sfottò, tra tifosi ci deve essere anzi, lui è un professionista e mi sono permesso di dissentire per questo. Ragazzi è successo il finimondo, mi hanno tolto il segui, il follower e adesso ti farò vedere un video di un altro social, non te ne andare da questo video, rimani fino alla fine, tanto è breve. Non potete capire ragazzi, mi hanno proprio, se fossi una persona senza carattere, oggi dovevo uscire da tutti i miei profili, perché veramente insulti a gogo, frasi proprio che ti fanno rabbrivitire. Perché è normale che uno se ci mette la faccia su questi social non puoi piacere, no? Non puoi piacere a tutti, lo so, però soltanto per aver espresso il mio pensiero, soltanto per quello mi hanno veramente rotto il di dietro. Veramente una cosa assurda, ragazzi adesso ci rido perché ho quasi 50 anni, insomma ho le spalle abbastanza larghe e quindi lasciano il tempo che trovano questi insulti, no? Però magari se fossi stato un giovane, un ragazzino, uno che magari si possa fare influenzare da queste parole bruttissime, credetemi bruttissime, oggi sarebbe stato veramente un giorno da far riflettere. Se continuare o meno a postare i video su tutti i miei profili social che ti invito a supportare, io sono positivo, vado avanti, anzi ancora di più. Comunque ti ringrazio per il like che metterai a prescindere all'iscrizione, perché voglio la tua iscrizione, ormai se ne sono andati tutti almeno ricominciamo da capo. Quindi ragazzi guardatevi il video che è incriminato, il video che vi farà capire tutto quanto, mi raccomando voglio il vostro commento, cosa ne pensate e mi mando un abbraccio. Grazie sempre del vostro supporto, molti di voi, per fortuna la maggior parte sono persone straordinarie e bellissime, che io ammiro e voglio bene assolutamente. Che dire ragazzi, viva il calcio, viva il bel gioco, viva la pace, perché a me piace tantissimo essere rivali sì, ma nemici mai. E' logico che tra i tifosi un po' di sfottosi deve essere, un po' di gogliardia, un po' di ironia, di sarcasmo, sono il primo. Però anche se Mancini si è scusato, secondo me un professionista non doveva commettere quel gesto, tutto qua. Penso di non aver detto nulla di strano, invece in tanti se la sono presa. Ciao a tutti, guardate il video, non fermatevi qua, adesso posto il video in questione. Ciao da Enrico Caffarelli, mi sono dimenticato pure come mi chiamo, talmente strana sta giornata, oggi mi sembro proprio confuso. I will confusion. Ciao a tutti. Anch'io ti tolgo il follower perché ti sei dissociato dal gesto di Mancini. Allora ti ringrazio perché prima eri il mio follower, adesso non lo sei più perché mi sono dissociato dal gesto di Mancini che è andato sotto la curva sud a sbandierare una bandiera della Lazio col sorcio in mezzo. Ti dico che come sfottò tra i tifosi ci può essere una cosa del genere. Ma lui è un calciatore professionista, vicecapitano della Roma e secondo me non può fare queste azioni. Ma è un mio punto di vista, per carità. Però tanto da farti togliere il follower... Mi dispiace, ti ringrazio perché prima eri il mio follower, adesso non lo sei più. Magari qualcun altro potrà capire il mio pensiero, potrà essere più democratico e magari prendere il tuo posto come follower. Però ti ripeto, noi tifosi magari possiamo fare questi gesti da sfottò, ma i calciatori secondo me no. Poi, se ho detto un'eresia, mi dispiace, ma Enrico Caffarelli la pensa così. Ciao!